L'esponente del nuovo centrodestra di Licata, Angelo Urso, rompe il silenzio di una campagna elettorale che ancora deve iniziare. Smentisce di essere candidato a sindaco ma traccia l'identikit del successore di Angelo Balsamo. Approvata dal Consiglio Comunale è delicata la gestione in house del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, voto bipartisan e di maggioranza e opposizione. Il costo ammonta a circa 4 milioni e mezzo di euro la protesta dei disoccupati al termine della seduta. Pubblicati i bandi per la partecipazione al cluster biomediterraneo inserito nell'Expo di Milano in programma il prossimo anno. Le istanze si potranno presentare online. Un cordiale benvenuto a tutti voi al consueto appuntamento con l'informazione di TV Alfa. Apriamo il telegiornale di oggi parlando di politica licatese. Nel silenzio della campagna elettorale della primavera del 2015 a Licata irrompe il medico Angelo Urso che in una lettera aperta traccia un'analisi sociopolitica ed economica della città. Ma a chi gli chiede se vuole candidarsi a sindaco l'esponente del nuovo centrodestra risponde di no. Il servizio di Paolo Picone. A chi gli chiede se la sua intenzione è quella di candidarsi a sindaco di Licata lui risponde con un secco no. Angelo Urso, medico licatese molto conosciuto e apprezzato in città, padre del vicepresidente del Consiglio Comunale Aurelia Urso ed esponente del nuovo centrodestra di Alfano irrompe nel silente clima politico da pre-campagna elettorale. E lo fa con una lettera aperta in cui traccia un'analisi socio-economica e politica di Licata, cercando anche di tracciare l'identikit del sindaco che verrà. Quelli che stanno fuori dalla politica, la gente, scrive Urso, si aspettano che si rimetta in moto Licata. Si mette in moto una produttività, un'economia, una finanza ricatese mai ancora vista. La gente vuol sentire parlare di lavoro, di opere cantierabili, di imprese artigiane, di risorse e della condizione che i nostri giovani continuano ad abbandonare il nostro territorio. Vuole risposta su una progettualità legalmente sostenibile all'abusivismo ad inizio del passato. Vuole sapere di offshore che si farà e della sua sostenibilità nell'impatto con la geografia turistica e marinare del nostro territorio. Vuole sapere della chiusura dei negozi nel nostro centro storico. Vuole sapere di ato idrico, di raccolta dei rifiuti, di tares, di spese non più sostenibili per chi ha una bottega per vivere nella nostra città, la gente. Vuole sapere di civiltà e di una Licata a terra di nessuno e di altro ancora. Il nome del candidato a sindaco non viene davanti al progetto civico, dice Urso, all'idea che si vuole di come Licata abbia a cambiare nei prossimi anni. Le qualità umane, le virtù di un singolo, pur quanto esperite, queste siano non sono bastevoli a cambiare lo stato delle cose a Licata. Esperienze vissute delle quali ne abbiamo registrate di volta in volta le delusioni. Le allodole non servono, né il canto delle sirene deve incantare. È la lezione che la storia di Licata ci insegna e ci consegna dal suo passato. Bisogna cambiare registro ed uscire prima di tutto dalla profonda delusione e tristezza del paradosso che Licata non possa avere un'amministrazione normale come nel resto dei comuni d'Italia. Porre sul tavolo la radicalità dei problemi e la radicalità delle soluzioni, del come si vogliono metterle in pratica. Parlare alla gente, aggiunge il dottore Urso, non da politici o per ideologia, ma di verità. Non è di certo la competizione strategica elettorale tra brava gente che si candida a sindaco la soluzione ai problemi della città. Serve uno spazio politico, diverso dagli esistenti, che pianifica un piano di governo per la città, capace di far tornare la politica il luogo delle decisioni e non di ratifica di opzioni burocratiche o di altre dipendenze. Uno spazio di aggregazione di idee e di idea del territorio, capace di un progetto e capace di dare autorevolezza a questa area nuova di innovazione e cambiamento. Un grande raccordo di persone in una Licata che cambia, che dà la propria speranza, la propria fiducia alla gente che vive male nel prospettare la realtà delle cose e le soluzioni sostenibili. Su una politica con lo spirito giusto, orientata dal valore sociale di un progetto civico, non utopico, sostenibile, credibile, di autenticità politica, deve nascere il nuovo soggetto outsider, non usurato candidato sindaco. L'autorevolezza di una vasta area di diverse appartenenze politiche è non così formata e orientata, che dà credibilità e ne delinea il futuro e la premessa. La candidatura sindaco di un soggetto outsider segue e accompagna il consenso nell'intercettare e rispecchiare le aspettative della gente. Lasciare ad altri, e cioè a quei canali monotematici di ogni stagione politica, la scomoda alternativa di fare, da testimoni al marchio di sempre, di un vecchio mondo e di un'altra storia, serve una politica che ancora resta sconosciuta a Licata. A fronte di quella che, come una notte non ha mai fine per Licata, presenta il conto sempre negativo ai suoi concittadini in termini di immagine, conclude Angelo Urso, di oneri socialmente gravosi e di assenza di prospettive per il domani. L'ex sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, è stato assolto dall'accusa di abuso di ufficio, un'accusa che lo aveva portato alle dimissioni. Ritengo profondamente ingiusta la legge Severino, soprattutto per i sindaci e gli amministratori locali. Nel mio caso l'effetto della legge era maggiore della condanna stessa. Sono stato sospeso per 18 mesi a fronte di una condanna ad appena due mesi e mezzo, ma io, come si ricorderà, non ho aspettato dopo la condanna la sospensione del prefetto, ma decisi di dimettermi subito dopo, perché a mio avviso un amministratore non deve avere macchie. Così ha spiegato Marco Zambuto subito dopo la soluzione in appello in merito al processo sulla Fondazione Teatro Pirandello. Questa esperienza mi fa capire che in Italia la giustizia c'è, continua Zambuto, anche se io ho pagato un prezzo molto alto. Ma ribadisco che la legge Severino, così com'è, non funziona e va cambiata. Non deve più succedere che un amministratore venga sospeso, se poi, come nel mio caso, viene assolto con la formula piena. Perché le mie dimissioni hanno comportato un taglionetto con il mio territorio, il tutto per effetto di una legge ingiusta. Marco Zambuto è una vittima innocente della legge Severino, che evidentemente va modificata prima che determini altre situazioni paradossali, come quella di Agrigento, lo dice Fausto Raciti, segretario regionale del Partito Democratico in Sicilia, dopo la sentenza di appello che ha assolto Marco Zambuto dall'accusa di abuso di ufficio, riferita al periodo in cui era sindaco di Agrigento. Dopo la condanna in primo grado, Zambuto aveva scelto di dimettersi per evitare alla città la sospensione del primo cittadino previsto dalla legge Severino. Quello di Zambuto, aggiunge Raciti, è stato un gesto di profondo rispetto per Agrigento, per le istituzioni e per il Partito Democratico. Un gesto che però oggi evidenzia l'urgenza di correggere una norma che può determinare effetti profondamente ingiusti sotto ogni punto di vista. Questo disegno di legge non vuole rappresentare la riforma complessiva del processo civile, ma certamente è il primo passo necessario per bonificare il campo e per poter poi intervenire una riforma complessiva che dia una risposta al problema giustizia. Attraverso la semplificazione della normativa, il riordino e la codifica per materia, la riorganizzazione del sistema e dell'ordinamento, riducendo i riti, eliminando disordine e sovrapposizioni. Lo dichiara Nino Bosco, deputato del nuovo centrodestra, intervenendo in aula a Montecitorio. Questa nuova normativa mette in campo tutta una serie di strumenti in grado di ridurre il contenzioso civile, sia con la previsione della possibilità del trasferimento in sede arbitrale delle cause pendenti, sia con la valorizzazione della professionalità degli avvocati e l'introduzione del nuovo istituto della negoziazione assistita. Si risponde così anche a censure che si sono pervenute dalle autorità esterne, dalla Corte dei diritti dell'uomo alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. È evidente, continua Bosco, come una giustizia civile inefficiente determini una riduzione degli investimenti, soprattutto dall'estero. Le imprese straniere non investono in effetti in una nazione nella quale la soluzione delle controversie giudiziarie richiede tempi lunghissimi, non assicura la tutela dei cittadini e che nel complesso rappresenta un ostacolo alla crescita del Paese. Con 19 voti favorevoli in Consiglio Comunale di Licata ha approvato la gestione in house del servizio dei rifiuti. Il costo stimato è di 4 milioni e mezzo di euro. Il nuovo centrodestra ha votato a favore della gestione diretta. Il servizio di Paolo Picone. Voto bipartisan all'unanimità. Con 19 voti a favore e tanti quanti erano i presenti in aula e 11 assenti, il Consiglio Comunale nella seduta di ieri ha approvato il piano di intervento Laro, l'ambito di raccolta ottimale del Comune di Licata, optando tra le due ipotesi previste dalla proposta di deliberazione, affidamento a terzi o gestione in house per la gestione diretta. Il servizio dovrà prevedere la raccolta differenziata, lo spazzamento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio dell'Aro, che nel caso specifico coincide con la delimitazione territoriale del solo Comune di Licata. Il nuovo centrodestra ha votato favorevolmente alla gestione in house. Nella fattispecie c'è stato un voto a mio avviso superpartners, perché di questo si tratta. Sicuramente è prevalsa la logica quella di gestione diretta. Perché gestione diretta? Perché se andiamo a fare un po' la conta di tutti gli interventi privati nei sistemi pubblici, a mio avviso sono stati tutti fallimentari, è tutta una questione che è molto, molto discutibile. Noi, come consiglieri comunali, almeno quelli presenti che abbiamo votato, perché quelli a sedda hanno sempre torto, sicuramente, ci siamo presi ultimamente questa responsabilità di andare a gestire questa benedetta immondizia in house, gestione diretta. Perché gestione direttamente, soprattutto c'è un delta di 800 mila euro quasi, tra diretta e indiretta. Si arriva al punto che si prende atto di un eventuale fallimento, cosa che io non auspico minimamente, perché sono sicuro che noi abbiamo le maestranze, abbiamo le competenze, abbiamo i mensi per andare a gestire questo benedetto paese sul lato di buon d'initi e sicuramente io sono sicuro che andremo a fare bella figura nella fattispecie. Quanto costerà il servizio? 4 milioni 389 mila euro in partenza, sicuramente ci saranno dei servizi che decideremo noi se applicarli oppure inserirli con un aumento di costo o no, perché è giusto che ognuno a casa sua si fa i conti in funzione di quello che può spendere, non di quello che vorrebbe, perché se io a casa mia posso spendere per la cena il costo di un po' di pane e un po' di prosciutto cotto, è inutile che mi sfascio la testa per andare a comprare caviale o prosciutto crudo, perché di questo si tratta. Noi stiamo attraversando un periodo di austerità che sta sotto gli occhi di tutti, il paese delicata noi, dico noi nello stato attuale e le amministrazioni che verranno nel prossimo futuro sicuramente si debbano calare nella logica del massimo risparmio di contenimento economico, perché diversamente non si va da nessuna parte. Nel corso della stessa seduta l'Assemblea cittadina ha anche deliberato approvandola la proposta di delibera dell'Anci Sicilia con la quale si chiede la soppressione del decreto sblocca Italia, il cui obiettivo è quello di bloccare la realizzazione del progetto di trevellazioni nel canale di Sicilia. Le due deliberazioni approvate, quella dell'Aro e quella di Anci Sicilia, sono state dichiarate immediatamente esecutive. Invece, al fine di acquisire ulteriori chiarimenti in merito al contenuto della stessa, l'esame della proposta sul riconoscimento di un debito fuori bilancio è stato rinviato al 13 novembre. E dall'esito della votazione si sono levate alte le proteste dei disoccupati trimestralisti di Licata che quest'anno non hanno lavorato per la pulizia della città. Sentiamo. Hanno protestato vivacemente appena il Consiglio Comunale di Licata ha approvato l'Aro. Sono i disoccupati licatesi che da anni si occupano in maniera saltuaria del servizio di pulizia delle spiagge o della pulizia straordinaria della città che riuscivano ad ottenere contratti part time e poi usufruivano delle prestazioni previdenziali dell'Inps. Mentre i consiglieri comunali sfilavano per lasciare la sala delle Aquile, loro protestavano. Perché siamo qui a protestare? Perché a lavorare aveva sette mesi che ci prendono per in giro per il culo. Prima il commissario, poi questi signori ci hanno preso tutti per in giro, tutto per il culo. Questi qua comandano, non comandano il commissario, comandano loro. Il commissario mi è stato affermato, la carta è sul posto e comandano loro. Loro ci vogliono mandare a lavorare. Loro ci vogliono mandare a lavorare e poi contestiamo che nell'Aro ci dobbiamo mandare a lavorare pure noi. Perché noi aveva 17 anni e ci hanno giocato a tutto, vero o no? 17 anni che ci occupano per tre mesi l'ordine. Tre mesi e bambini a scuola ci possiamo mandare. Chi non lo potevamo fare? C'è solo vergogna, ma non vergognare. Solo vergogna. Avete votato voi per Balsamo, per questa amministrazione? Tutto, tutto, tutto abbiamo votato. Balsamo, tutta, tutta quella amministrazione. A tutti abbiamo votato. Anche qualcuno di qui dentro. Ci sono persone anche qui dentro, hanno preso pure il voto. E questi non hanno mantenuto niente, niente, niente. Nessuno ci ha mandato. Nessuno, nessuno. Nessuno. A maggio noi stiamo preparando, non vogliamo fare politica. A maggio politica lo ne fanno. Per tre mesi. Vergogna, vergogna. C'è una vergogna possibile. Vergognatemi. Hai capito? Tutto questo. A me mi ha ragione accorre che a volte sembrava sette mesi che mi prendono un culo. Giuseppe, stanno i busti sul tavano e stanno, non va finisci a ciò come nel 2004, stanno facciamo un macello e stiamo come un peggio di famiglia e non c'è un po' di panno e lo facciamo ammazzare. Sette mesi dopo dieci anni, dopo dieci e sette anni ci hanno buttato fuori. Ci fanno mangiare i soldati da ditta. A due ditte privati ci fanno mangiare i denari. Ora hanno paura che va finisci da mandare la corte dei condi. Non possono fare che non gira la corte dei condi. A prima mangiare la corte dei condi. Non c'è, non c'è che. E ora hanno tutto paura che le gira spesa davanti la corte dei condi. Vergogna. E' da vergognare. I carabinieri della stazione di Licata hanno dato esecuzione a due provvedimenti di carcerazione emessi dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Ad essere arrestati sono stati atti, queste le iniziali, 50 anni, disoccupato, licatese, che deve scontare cinque mesi e cinque giorni di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di un tentato furto in concorso risalente al 4 novembre 2011. Nonché DG, 55enne, commerciante, già noto alle forze dell'ordine, che deve scontare un anno, otto mesi e 17 giorni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata all'estorsione e l'usura a fattispecie criminose commesse a Licata nel novembre del 2007. Entrambi gli arrestati, dopo le formalità di legge in caserma, sono stati trasferiti nelle rispettive dimore, dove dovranno scontare la pena in regime di detenzione domiciliare. Il maltempo e allerta meteo, forti precipitazioni hanno colpito agrigente tutta la provincia nel corso della scorsa notte. Con la pioggia, ecco che in città si ripetono i soliti allagamenti, come a San Leone, dove il Viale delle Dune si è trasformato in un fiume in piena e a Villaggio Mosè, dove le caditoie otturate hanno trasformato le strade in veri e propri laghi. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per aiutare le persone in difficoltà, in special modo quelle broccate a bordo delle proprie auto. Il bilancio parla di cornicioni caduti, alberi e rami pericolanti e tombini saltati per la furia dell'acqua. Ad Agrigento, in via Piersanti-Mattarella, un autobus della tua è rimasto bloccato dopo che la ruota posteriore è sprofondata nell'asfalto in seguito ad un cedimento dovuto alle forti piogge. Il deputato regionale del PD, Giovanni Panepinto, ha presentato una lettera al presidente della regione, Rosario Crocetta, al vicepresidente Mariella Lobello e all'assessore ai beni culturali Antonio Purpura, per chiedere che vengano stanziati dei fondi per aprire degli scavi per trovare il teatro greco di Agrigento. Come sappiamo, infatti, il teatro greco dell'antica città di Akragas non è ad oggi ancora stato trovato, nonostante numerosi studi sono stati fatti in passato e nonostante gli archeologi per più di un secolo si sono scervellati appunto su questo problema. Certamente però appunto un teatro doveva esistere, vista appunto l'importanza che aveva a quell'epoca la città di Akragas, grande colonia greca. Dunque il deputato regionale Panepinto dice che però mancano i fondi per aprire una campagna di scavi sistematici. Il servizio. Avviare nuovi scavi archeologici e portare alla luce il teatro greco che, secondo l'ipotesi di molti studiosi, faceva parte dell'insediamento della polis di Akragas, sarebbe un avvenimento culturale di grande significato e di un certo impatto mediatico che potrebbe contribuire al rilancio dell'economia locale e dell'immagine della Sicilia. Lo dice il parlamentare PD Giovanni Panepinto in una lettera indirizzata al presidente della regione Rosario Crocetta, al vicepresidente Mariella Lobello e all'assessore ai beni culturali Antonio Purpura. La città di Agrigento costituisce una delle attrazioni più significative sul piano culturale, artistico e archeologico della Sicilia. La Valle dei Templi costituisce una delle aree archeologiche più vaste al mondo, con i suoi 300 ettari di estensione, nonché patrimonio dell'umanità come dichiarato dall'UNESCO. Eppure tra i suoi reperti non figura alcun teatro antico, cosa impossibile vista la tradizione delle popolazioni fondatrici della colonia. Da un secolo gli archeologi di tutto il mondo si scervellano per tentare di capire dove può essere collocato l'antico teatro. Diverse ipotesi sono state fatte negli anni, ma ancora nessuna certezza. Riuscire a portare alla luce il teatro, che indubbiamente arricchiva l'impianto urbanistico dell'antica città di Akragas, costituirebbe grande slancio per l'economia locale e arricchirebbe ulteriormente il già ricco patrimonio culturale della nostra terra. A giugno scorso era stato messo in cantiere un progetto nato da una convenzione tra l'ente parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi e l'Università di Padova, finalizzato ad identificare le zone di potenziale interesse archeologico su cui aprire il fronte della ricerca e avviare gli scavi. Previsto un drone per solvorare e permettere quindi di verificare dall'alto l'eventuale presenza di tracce di insediamenti, strutture o strade attraverso sistemi di indagine teleosservativi da incrociare poi con i rilevamenti satellitari, documentazioni, fotografie e studi scientifici per identificare le zone maggiormente interessanti. Tra i primi ad indagare nel sottosuolo agrigentino, Hardcastle, ambizioso studioso che tra il 1920 e il 1930 condusse una campagna di scavi investendo copiose risorse finanziarie. I lavori diretti all'epoca dal giovane archeologo Pirro Marconi portarono alla luce importanti testimonianze archeologiche. Tra gli anni 70 e gli 80 si tornò a scavare. In entrambe le campagne di scavo però nessuna traccia del teatro greco. Nel 2010 un finanziamento di circa 2 milioni di euro di fondi europei stanziati dalla regione siciliana disponeva una mirata campagna di scavi nella zona della Gorà Superiore in prossimità della contrada San Nicola, dove già sono stati portati alla luce i resti di due importanti edifici pubblici come il Buleuterion, luogo in cui si riuniva la Bule, e l'Ecclesiasterion, Assemblea dell'Ecclesia. La tecnologia e il progresso scientifico potrebbero finalmente consegnarci il teatro, scoperta archeologica che senza ombra di dubbio avrebbe una grande eco a livello internazionale. Il problema però è che non si trovano i fondi. Non si trovano le risorse finanziarie per una seria campagna di recupero, continua il parlamentare Panepinto, mentre in questi giorni è tornato agli onori della cronaca il ponte sullo stretto che insieme ad altre mirabolanti e costosissime opere dovrebbe rilanciare l'economia e l'immagine della Sicilia. L'individuazione e il recupero del teatro antico di Agrigento potrebbe contribuire in modo altrettanto efficace al rilancio dell'economia locale e dell'immagine della Sicilia. È un'operazione possibile, conclude, che darebbe della nuova giunta un'immagine di concretezza operosa, unita alla capacità di porre la Sicilia in sintonia con i flussi della cultura internazionale e di quelli dell'economia del turismo. La Sicilia parteciperà all'Expo di Milano 2015, il grande evento internazionale che appunto è in programma il prossimo anno. La Sicilia parteciperà con il cluster bio-mediterraneo. Il cluster è per l'Expo 2015 un'unione di stati, cluster vuol dire letteralmente grappolo, un'unione di stati sotto una tematica comune, in questo caso appunto la tematica è il Mediterraneo, i prodotti del Mediterraneo. E la Sicilia in quest'area tematica farà da capofila, farà proprio da coordinatrice dei lavori. Ieri sono stati presentati ufficialmente i bandi per partecipare appunto all'Expo, presentati ufficialmente dall'assessore Calega. Quindi vediamo i particolari, anche per tutti coloro che volessero partecipare all'Expo di Milano, in questo servizio. Porteremo ad Expo 2015 2.000 anni di valori e cultura per ripartire dal Mediterraneo. È quanto ha affermato ieri il neo-assessore all'agricoltura Nino Calega nel corso della conferenza di presentazione dei bandi per la partecipazione al cluster bio-mediterraneo. Il cluster è l'innovativa formula utilizzata da Expo per aggregare intorno ad aree tematiche omogenee e diverse nazioni. La Sicilia, individuata quale contraente di Expo per la gestione del cluster bio-mediterraneo, avrà il compito di coordinare le iniziative degli 11 paesi partecipanti, Grecia, Libano, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Malta, San Marino, Albania e Montenegro, e di amministrare tutte le iniziative e gli eventi che si realizzeranno all'interno dell'area comune. La Sicilia, attraverso il ruolo di capofila del cluster, ha precisato l'assessore Nino Calega, potrà realizzare in concreto quella politica di coesione e condivisione di progetti e valori tra i paesi del bacino del Mediterraneo, che tanto possono fare oggi per il recupero di relazioni di pace e di crescita economica e sociale tra i popoli. Tenteremo di riportare centralità alla dieta mediterranea, intesa come stile di vita basato sulla convivialità, la cultura, le relazioni interpersonali, restituendo ad un mondo che ha perso di vista l'interesse comune i valori millenari legati alla terra e alle tradizioni. Expo sarà anche, ha ribadito Calega, l'occasione per avvicinare i giovani alla terra. L'assessorato agricoltura, infatti, orienterà molte delle proprie risorse verso la promozione di nuove imprese giovanili, che sappiano coniugare tradizione e innovazione, terra e mezzi di comunicazione globali. Altro elemento che sta a cuore all'assessore è il rispetto dei protocolli di legalità. Il viaggio verso Expo parte dall'albero Falcone, ha dichiarato la Sicilia sceglie con forza e determinazione la legalità come strumento di partecipazione. Attiveremo tutti gli strumenti giuridici possibili per garantire che neanche un'azienda che opera nella legalità possa essere presente all'Expo in rappresentanza della Sicilia. La Sicilia che porteremo avanti, a concluso, sarà quella dei buoni prodotti della qualità del lavoro e delle scelte etiche. L'area comune del biocluster copre uno spazio di circa 4.600 diometri quadrati, all'interno del quale si trovano quattro punti e due dei quali saranno destinati alla ristorazione, uno alla pianificazione e dolci, uno al wine bar. I destinatari degli avvisi avranno tempo entro il 30 novembre 2014 per fare pervenire le proprie candidature. Le categorie interessate sono aziende di prodotti agricoli, ittici ed agroalimentari di Sicilia, comuni, operatori destinazione Sicilia dei visitatori Expo, gruppi di azione locale, gruppi di azione costiera della Sicilia, enti strumentali della regione siciliana, università ed enti di ricerca, scuole, chef e cuochi, associazioni, fondazioni, persone fisiche e giuridiche, banche. Si può aderire all'iniziativa inviando le istanze di partecipazione in formato cartaceo all'assessorato agricoltura della regione siciliana oppure tramite email all'indirizzo expo2015-regione.sicilia.it. Gli avvisi che potranno essere reperiti sul sito www.biomediterraneo.com contengono tutte le informazioni utili per chiunque a diverso titolo voglia partecipare al prestigioso evento internazionale che si svolgerà a Milano dall'1 maggio al 31 ottobre 2015. Sarà presentato lunedì 10 novembre alla Camera di Commercio di Agrigento il nuovo portale dedicato alla fatturazione elettronica delle piccole e medie imprese che hanno rapporti di fornitura con le pubbliche amministrazioni. Vediamo. La Camera di Commercio di Agrigento, al fine di agevolare le imprese ad adeguarsi alle nuove regole di fatturazione elettronica per favorire una rapida e completa transizione verso l'utilizzo delle tecnologie digitali, presenterà l'apposito portale messo a disposizione dalle aziende agrigentine durante una riunione in programma lunedì 10 novembre con inizio alle 10.30 presso il Salone Camerale. Ci sarà il saluto del Presidente Vittorio Messina e gli interventi di Carmelo Genuardi, responsabile del servizio, e di Maddalena Venezia, referente informatica Infocamere. Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Virgilio, segretario generale dell'ente camerale. È già online infatti attraverso il sito dell'ente il servizio di base di fatturazione elettronica espressamente dedicato alle piccole e medie imprese scritte alla Camera di Commercio che abbiano rapporti di fornitura con le pubbliche amministrazioni. Dal 6 giugno scorso tutte le amministrazioni centrali sono tenute per legge a ricevere fatture solo ed esclusivamente in formato elettronico e a partire dal prossimo mese di aprile tale obbligo sarà esteso a tutte le altre amministrazioni pubbliche. Le Camere di Commercio italiane, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Union Camere, hanno realizzato infatti un nuovo strumento online senza alcun onere per le imprese al fine di venire incontro ai piccoli fornitori della pubblica amministrazione. L'obiettivo del servizio è quello di agevolare le imprese ad adeguarsi alle nuove regole di fatturazione e favorire una rapida e completa transizione verso l'utilizzo delle tecnologie digitali in una strategia pubblica di inclusione digitale. Le piccole e medie imprese potranno così adeguarsi alla nuova realtà digitale semplicemente collegandosi al portale di servizio segnalato sulla home page della Camera di Commercio e di Union Camere, senza dover scaricare alcun software. Un altro servizio offerto da pochi giorni dal sistema camerale riguarda i certificati e le visure camerali che hanno affiancato alla loro versione italiana anche quelle in lingua inglese, arricchendo così l'offerta dei documenti ufficiali che possono essere richiesti all'anagrafe delle imprese delle Camere di Commercio italiane, realizzata e gestita da Infocamere. Il progetto si inserisce nell'ambito del cosiddetto decreto Destinazione Italia, che punta a creare misure per favorire gli investimenti in Italia da parte di imprese estere e dall'altra facilitare l'accoglienza delle imprese italiane nell'ambito delle economie straniere. Le nostre imprese impegnate in attività import-export, aggiunge Vittorio Messina, che è il presidente della Camera di Commercio da Grigento, saranno così agevolate nel momento di fornire la documentazione richiesta dalle autorità straniere, potendo ottenere un certificato in lingua inglese allo sportello della Camera di Commercio sul portale registronemprese.it senza doversi avvalere di una traduzione giurata, consentendo di fatto per l'azienda un risparmio sia in termini di tempo che di costi. Inoltre, secondo quanto stabilito dal decreto legge, l'utilizzo del certificato in lingua inglese presso uno Stato estero sarà esente dall'imposta di bollo. La programmata disinfestazione degli uffici del Comune di Licata, già in programma per la giornata di oggi, è stata rinviata a venerdì 14 dicembre, lo ha reso noto il Comune. Un nuovo laboratorio di elettrofisiologia all'ospedale di Grigento lo ha disposto il direttore generale dell'Asp, Salvatore Lucio Ficarra. E sono tante le apparecchiature che saranno acquistate per garantire migliori servizi sanitari. Sentiamo. Dopo la PET, l'acceleratore lineare e i due ecotomografi, la direzione generale dell'azienda sanitaria ha disposto l'attivazione del laboratorio di elettrofisiologia presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Grigento. Il laboratorio sarà sistemato nel reparto di cardiologia e avrà valenza aziendale. Il laboratorio si occuperà del trattamento invasivo delle aritmie cardiache. La procedura consiste nella registrazione di segnali elettrici cardiaci mediante elettrocatetari a diretto contatto con le superfici interne del cuore, al fine di conoscere i meccanismi responsabili delle pericolose aritmie complesse. L'azienda è già in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria per il funzionamento del laboratorio, nonché di un'equipe medica formata con sufficiente esperienza per l'attivazione del servizio. L'attivazione del servizio ridurrà il notevole disagio degli utenti per la migrazione verso altre aziende con notevole risparmio. Quindi all'ospedale San Giovanni di Dio arriveranno numerose apparecchiature diagnostiche come la PET che sarà fornita dalla Siemens e un acceleratore lineare. Per la PET il contratto comprende l'acquisto composa in opera con la formula chiave in mano per un importo complessivo di 2.800.000 euro di fondi comunitari per il tramite l'assessorato regionale alla salute. L'intervento dovrà necessariamente realizzarsi e completarsi entro e non oltre il 31 dicembre del 2015. L'importante attrezzatura sarà usata prevalentemente in oncologia per la ricerca di tumori e metastasi e in campo cardiologico e neurologico. Entro il mese di agosto 2015 invece sarà in funzione l'acceleratore lineare del costo di 2.400.000 euro. La preghiatura radiologica rientra tra i finanziamenti del programma operativo. L'acceleratore lineare troverà applicazione nel trattamento delle terapie antitumorali. In particolare i raggi X prodotti serviranno esclusivamente a colpire i tumori più profondi, quelli più invasivi. I recenti provvedimenti riguardano la fornitura di due ecotomografi, di cui uno per esami e procedure interventistiche da installare presso l'unità di urologia del presidio ospedaliero di Grigento e l'altro ecotomografo ad alte prestazioni per rispondere alle esigenze diagnostiche cardiologiche, transfontellanari e encefaliche addominali neonatali da installare presso la neonatologia e terapia intensiva del presidio ospedaliero di Contrada Consolida. Intendiamo dotare gli ospedali di apparecchiature all'avanguardia, spiega il direttore generale dell'ASP, Salvatore Lucio Ficarra, per evitare che l'utenza grigentina emigri in altre realtà e poi ci ritroviamo a pagare il servizio che viene reso lontano dalle città di residenza. Stiamo intervenendo per colmare queste criticità che abbiamo riscontrato. Abbiamo sottoscritto una convenzione con il Policlinico di Catania per formare il nostro personale attraverso un apposito corso tenuto dal professor Bonanno, primario di gastroenterologia per la metodica RCP, perché ci siamo resi conto che ogni anno ci sono circa 100 agrigentini che per questo servizio, che la nostra ASP non garantisce, sono costretti a rivolgersi presso altre strutture. E noi ci dobbiamo mettere anche l'ambulanza, il medico, l'infermiere. Quindi, se riusciamo a farle da noi, risparmieremo sicuramente molti soldi. La Biblioteca Comunale Giuseppe Zagarrio di Ravanusa apre le porte al progetto SVE, Servizio Volontariato Europeo. Motore della macchina organizzativa è l'archeoclub di Campobello di Licata, presieduto da Emilia Bella. I protagonisti sono gli alunni dell'Istituto Saette e Livatino, un progetto spiega l'archeologa Mariangela Amato, che mira all'integrazione e all'esaltazione dei valori del sociale e del volontariato con l'idea rivolta al domani. Bene, si conclude così il telegiornale di oggi. Grazie per averci seguito l'appuntamento e le prossime edizioni. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.